Salve a tutti e benvenuti nel mondo delle mantidi. Oggi vi presentiamo un'altra fantastica specie di mantide. Si tratta della miomantis paiculli. È un insetto di dimensioni medio piccole con una lunghezza che va dai 3,5 ai 4 centimetri. La femmina e il maschio hanno dimensioni simili, ma quest'ultimo come in tutte le mantidi, presenta una forma più slanciata con antenne e ali più lunghe. Questa specie può avere diversi colori che vanno dal verde al marrone scuro fino al giallo paglierino, colori che si adattano alle zone cespugliose in cui vive dove rimane mimetizzata. Questa mantide presenta anche una caratteristica forma della testa, molto più larga rispetto al pronoto, soprattutto nel maschio, e con dei caratteristici occhi conici. È una mantide molto aggressiva che arriva a catturare insetti grandi quanto lei, ed è molto facile che la femmina cannibalizzi il maschio durante l'accoppiamento. Tuttavia non esegue alcuna parata di minaccia, e per questo non presenta macchie sulle zampe raptatorie o ali di un colore vivace. La miomantis paiculli è una delle poche specie di mantide capaci di ricorrere alla partenogenesi, cioè di deporre oteche fertili senza l'intervento di un maschio. Questa caratteristica unita alle sue piccole dimensioni e alla sua voracità la rendono una delle mantidi più facili da allevare e riprodurre. La miomantis paiculli è soprannominata anche mantide religiosa egiziana. Malgrado il nome, è diffusa però in un'ampia porzione dell'Africa. Una sua parente, la miomantis erembergi, è endemica dell'Egitto. Con questo è tutto. Noi ci rivediamo nel prossimo video.